Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians. Qui Shanks con un nuovo aggiornamento della roadmap per gli update di Destiny 2. Questa volta, come è giusto che sia, l'enfasi viene messa sull'aggiornamento 2.0, che adesso ha una data e delle modifiche ed aggiunte precise, ma non finisce qui, perché a settembre arriverà anche la versione 2.0.0.1, che è complementare alla versione 2.0 e che anch'essa ha una data e porta con sé ancora più modifiche di quelle che avremmo potuto immaginare. Passiamo alla sigla e poi vi spiego tutto. L'ultimo aggiornamento della roadmap che ci è stato fornito risaliva ad inizio luglio, precisamente il 5, e alcune cose, inizialmente previste per il rilascio di settembre, sono state anticipate. Vi ricordo che, essendo questi, degli aggiornamenti saranno disponibili per tutti, indipendentemente dal possesso o meno dei DLC e dell'espansione, il che vuol dire che, anche senza possedere i rinnegati, vi ritroverete con i cambiamenti di questi aggiornamenti. Tuttavia, per i contenuti previsti dall'espansione, sarà necessario, chiaramente, possederlo. Veniamo così a sapere che l'aggiornamento 2.0 arriverà qualche giorno prima dell'uscita dei rinnegati e che porterà con sé, in anticipo rispetto al previsto, il tanto atteso cambiamento agli slot delle armi, la possibilità di rimuovere in blocco gli shader e 200 nuovi spazi per il deposito, portandolo così a 500. A fare compagnia a queste modifiche, sempre il 28 agosto, troveremo anche degli aggiornamenti alle pietre miliari e alle sfide. Il navigatore sarà ridisegnato per accogliere le nuove destinazioni e vedranno la nascita le missioni della storia in difficoltà eroica. Ma questo aggiornamento è solamente un'anticipazione di quello che sarà poi introdotto il 4 settembre, contestualmente all'uscita dei rinnegati. La versione 2.0.0.1 si rivela infatti essere più grossa ed importante di quanto ci si potrebbe aspettare. La lista non è completa, ma solo parziale, ma aiuta comunque a rendere l'idea. Ecco perciò che saranno aggiunte le collezioni armamento, i trionfi in gioco, le caratteristiche casuali delle armi, un nuovo sistema delle modifiche su cui spero parleranno presto, 3 nuove mappe del crogiolo più una esclusiva playstation, nuove modalità sempre per il crogiolo, storie e leggende inserite direttamente nel gioco, nuove taglie e... siete pronti? Il nostro livello di potere tornerà a contare nelle partite dello standardo e delle prove. Boom! Accontentati nuovamente. Man mano che ci avviciniamo a settembre saranno rilasciati sempre più dettagli su questi due aggiornamenti, così come sul periodo di manutenzione necessario al rilascio. Perciò rimanete sempre sintonizzati insieme a noi seguendoci qui sul nostro canale youtube o sulle nostre pagine facebook, instagram e sul nostro discord. I link li trovate in descrizione. In attesa di altre informazioni io vi saluto. Da uno Shanks dall'altra parte del mondo è tutto, passo e chiudo! Grazie! Grazie!